Ben ritrovati dalla redazione. L'Assemblea dei Lavoratori della Varsila ha approvato un pacchetto di otto ore di sciopero ad articolarsi entro il 19 dicembre. A presentare la proposta sono state le segreterie dei tre sindacati confederali che hanno incontrato i lavoratori nello stabilimento di San Doligo della Valle. La proposta include anche un nuovo incontro con i parlamentari del territorio. L'Assemblea è stata molto partecipata con 400 persone presenti e altre 350 collegate da remoto. Le otto ore di sciopero verranno frazionate in due momenti di quattro ore ciascuno. Un ragazzo di 18 anni è finito all'ospedale dopo un incidente all'intersezione tra Via Le Sanzio e Via Donatello a Trieste. Stando quanto si è preso un'auto stava salendo da Viale Sanzio verso Piazzale Gioberti quando nello svoltare in Via Donatello ha impattato contro la moto. Il diciottenne è stato soccorso dal 118 ed è stato portato vigile e cosciente all'ospedale di Cattinara. Le sue condizioni non sono gravi. Rinvia giudizio per i 4007 accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Reggeni. Il Gup di Roma Roberto Ranazzi ha fissato l'udienza il prossimo 20 febbraio davanti alla Corte d'Assise. Gli imputati sono accusati a seconda delle posizioni di concorso in lesioni personali aggravate, omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato. La presidenza del Consiglio dei Ministri inoltre è stata ammessa come parte civile nel procedimento. Il piano di sviluppo dell'azienda SIAP che fa parte di Carraro Group, società leader a livello internazionale nella produzione dei sistemi di trasmissione per trattori e veicoli off highway, è la dimostrazione palese della capacità attrattiva del Friuli Venezia Giulia, attrattività che si traduce in nuovi investimenti e posti di lavoro resi possibili dagli innovativi strumenti messi a disposizione dalla Regione tramite i consorzi di sviluppo economico locale come gli incentivi per la riqualificazione dei capannoni e delle aree industriali dismesse e recentemente censite con il Master Plan FWG. Lo afferma l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emilio Bini che ha fatto visita alla sede di Maniago di SIAP e al nuovo stabilimento di Monterreale Valcellina, recentemente avviato riqualificando un'area industriale dismessa nell'ambito di un più ampio piano di sviluppo dell'attività dell'azienda in Friuli Venezia Giulia. Sport alla Palacanesa Trieste ha iniziato al meglio il suo girone di ritorno della Serie A2 Old Wild West 2023-2024 conquistando i due punti in trasferta sul campo della Agri Bertocchi Orzinuovi. Dal suo ritorno a Palacanesa il prossimo 17 dicembre con la benedetto 14esimo 100 la società bianco-rossa ha deciso di dedicare degli speciali promozioni sui tifosi abbonati e non per poter assistere le gare casolinghe della squadra con i prezzi agevolati per le gare del girone di ritorno. Pensando ai suoi buonati sarà anche attiva la promozione del Porta a un Amico al costo di 5 euro tagliando nel settore di appartenenza per la sfida rimandata al prossimo 24 gennaio alle ore 20 con San Giobbe, basket chiusi. In chiusura uno sguardo alle previsioni meteorologiche sul Friuli Venezia Giulia. Cielo in prevalenza coperto con piogge in genere deboli sull'alta pianura, moderate su bassa pianura e costa. Sul Carso possibili piogge più abbondanti, sulla zona montana possibili deboli nevicate oltre i 500-700 metri circa, più probabili su Alpi e prealpi giuglie. Al mattino la quota neve è un po' più bassa con possibile formazione di ghiaccio al suolo. Temperature minime in pianura fra 2 e 5 e le massime fra 7 e 10 gradi. Sulla costa minime fra 4 e 7 e massime fra 9 e 11 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo. Ed è tutto per il momento dell'informazione del nord-est. Grazie per averci seguito. A più tardi. Grazie per averci seguito.